Green è abituato a gestire queste emozioni. Ci riproviamo Claudia? Matteo, Matteo scusami, ci riproviamo, ci riproviamo, sei calmato un po'? Sì, sì, sai, alleni da 25 anni e ti sogni una roba del genere, è pazzesca, non potete capire, è pazzesca. Vuoi dirmi cosa stavi dicendo Andrea Tosi? Che sono arrivato a uno, come i ciclisti, e che posso smettere di allenare domani e aprire un'edicola in Finlandia.